Comincia proprio oggi 6 ottobre a Sabucina il triduo di preparazione in attesa del giorno della festa in onore della Madonna del Rosario. La comunità parrocchiale infatti si raccoglie in preghiera sino a domenica quando intorno alle 17 comincerà una processione accompagnata dalla banda musicale, seguita poi dalla celebrazione della messa all'aperto intorno alle 18 e 30 e poi i festeggiamenti si chiuderanno con i fuochi d'artificio. Dopo la pandemia finalmente possiamo riprendere la tradizionale processione in onore della Madonna del Rosario alla quale la chiesa è intitolata. La festa è una devozione mariana perché come dicevo appunto la chiesa è intitolata la Madonna del Rosario. In passato la chiesa è stata parrocchia quindi aveva le attività tipiche e ordinarie della parrocchia. Era una parrocchia rurale naturalmente per la conformità anche del territorio circostante. Poi con gli anni il territorio si è un po' svuotato dai suoi abitanti e la chiesa è stata ridotta a rettoria affidata alle cure del parroco di Santa Barbara e quindi sia il mio predecessore padre di Vincenzo oggi ci occupiamo della cura anche di questo luogo che nonostante tutto comunque è utilizzato perché comunque di tanto in tanto noi celebriamo. Utilizziamo la chiesa e i locali attigui per ospitare gruppi e attività scout e ritiri spirituali. Si celebrano anche alcuni matrimoni. Quindi è un luogo che alla fine ha ancora una sua frequenza, anche un suo valore soprattutto per coloro che affettivamente sono cresciuti in questa chiesa, in questi luoghi e tornano volentieri a visitarla. Si prevedono anche dei momenti di intrattenimento e condivisione come la Sagra della Salsiccia e poi ancora l'artista Carlo Canebba sarà ospite della serata organizzata dal Comitato pro festeggiamenti di Sabucina sabato 8 ottobre. Sarà presente anche Antonella Cirrone. Ci sono degli eventi collaterali che sono organizzati dal Comitato della Madonna di Sabucina, un gruppo di persone che frequentemente, abitualmente recitano il rosario durante l'anno nella chiesa e si prendono cura anche della stessa chiesa, curando tutti quegli aspetti minimi della manutenzione ordinaria, garantendo così anche la fruibilità e l'accessibilità di questi luoghi. Tra gli eventi collaterali è prevista una serata con il cognomico Canebba che si svolgerà il sabato sera, lì nel piazzale esterno di fronte alla chiesa. Grazie a tutti.